Cosa consiglieresti a una famiglia nel momento in cui affidano i loro bambini in una scuola tennis? Beh, gli consiglierei soprattutto di pensare al tennis come un momento ludico, soprattutto all'inizio, perché così deve essere, il tennis deve essere uno sport e anche però un gioco. È uno sport ma deve essere per chi inizia a giocare un gioco, un momento di divertimento, un momento da passare con tanti altri piccoli bambini e poi di secondare un pochino il percorso del proprio figlio e magari un giorno, insomma, vederlo diventare un campione.